due episodi è capitato ieri che mi fanno ricordare tutte e due una bellissima canzone la Doro degli aeroplani italiani non so se ve la ricordate faceva zitti zitti che il silenzio è Doro facciamo una cosa state zitti in coro allora primo episodio mi scrive un editore inglese quello di dealer camp che è questo mensile che ormai sono decenni e decenni che c'è in inghilterra ma sta per arrivare anche qua che è un mensile praticamente dove gli accessoristi spiegano raccontano i loro accessori ed è divulgativo informativo riservato sulle concessionali bene e mi dice ma secondo te in quale delle varie nazioni in cui andrò avrò problemi perché c'è quello che non ci dice nulla non vuole rapporti non è e poi però brontola si arroga il diritto perché arroganza non figlia dell'intelligenza ma di qualcos'altro in arroganza di avere da ridire chi è qual è quella l'Italia vedrai che in Italia troverai gli accessoristi che però prima quando c'era e c'è la possibilità di attivarsi non dicono niente allora non dici niente prima perdi il diritto di dire qualcosa dopo fine perché se no è arroganza e l'arroganza non è figlia dell'intelligenza altro episodio ieri un concessionario pubblicamente ha da ridire su un articolo che abbiamo scritto su di un mezzo un veicolo ricreazionale giacente presso un altro suo collega anche in questo caso ma io sono 20 anni due mesi che esistiamo non hai mai voluto avere rapporti se no ci sarei stato qui quindi vuol dire che non ci consideri niente perché se uno non vuole avere rapporti vuol dire che ti considera nulla e questo è più che legittimo eh attenzione non è che uno deve avere rapporti proprio con tutti uno può anche decidere credo in te non credo in te credo in te non credo in te è ovvio non siamo nella Romania di Ceausescu in cui c'è il 100% di consenso anche perché attenzione ricordatevelo che il 100% uguale a zero eh questo chiunque ne capisca anche solo il 2 per 1000 di marketing e di comunicazione lo sa benissimo non incapa nell'errore allora dov'è quindi il punto? Il punto è quello che se non hai avuto rapporti ma che te frega di quello che scriviamo? Ma che te ne importa a te? Tanto è già deciso che non valiamo niente non è che hai eh se in se nell'Olimpo degli dèi per cui ti puoi eh arrogare e a e a eh qualunque cosa cioè tu sei un concessionario che non ha voluto avere rapporti con noi e finchè non ce li ha zitti 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 che il silenzio è d'oro fate una cosa state zitti in coro oh quindi mi spiace per l'editore inglese ma vedrà lo vedrà che poi in Italia ci saranno gli accessoristi che perché adesso zitti poi dopo brontoleranno e purtroppo mi spiace per i per la maggior parte dei concessionari gente seria ma questo tipo di atteggiamento è esecrabile e da condannare perché se uno legittimamente non vuole avere rapporti poi però l'acquerenza è l'acquerenza eh? Eh?